Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando delle condizioni meteorologiche. Da due giorni hanno tenuto col fiato sospeso soprattutto gli studenti che si sono ritrovati per due giorni le elezioni sospese, diversi comuni e non solo del Catanese appunto che hanno diramato l'allerta sulla base di quello lanciato dal Dipartimento regionale di protezione civile. Adesso però il tempo si avvia ad un miglioramento anche se permarranno forti raffiche di vento e anche qualche acquazzone sparso. Vediamo. Un'intera nottata di pioggia senza sosta alcuna, precipitazioni però fortunatamente non particolarmente violente ma accompagnate da forti raffiche di vento. Stamattina dalle nubi sempre più diradate anche qualche raggio di sole come non si vedeva da venerdì scorso. La due giorni di allerta meteo sembra essere ormai quasi del tutto alle spalle anche se stamani scuole chiuse dopo che la protezione civile ieri ha innalzato il livello da arancione a rosso sino alle 24 di oggi. La vasta ondata di maltempo che sta imperversando sulla Sicilia accentuando il tempo perturbato con il contributo di correnti nordafricane si è estesa su tutto il territorio in lungo e largo soffermandosi in particolare sulla porzione orientale portandosi poi sul tirreno centro-meridionale estendendo i fenomeni su gran parte dell'area ed intensificando ulteriormente la ventilazione in generale incrementando le precipitazioni. Venti di burrasca con raffiche dai quadranti meridionali per cui è stata valutata per la giornata di oggi una situazione critica dal punto di vista del rischio idrogeologico ed idraulico. L'allerta rossa su tutta la fascia orientale lo vedete in queste carte contrassegnate dai colori di soglia di attenzione elevata che ormai da giorni caratterizzano la situazione meteorologica locale. Diversi sindaci che si sono attivati per diramare ordinanze sindacali che hanno imposto anche per la giornata odierna la sospensione delle lezioni nei plessi scolastici di ogni ordine e grado. Scuole chiuse a Catania, tra le altre città anche a Cicastello, a Cicatena, a Cisant'Antonio, a Biancavilla, Calatabiano, Caltagirone, Giarre, Misterbianco, Randazzo, Riposto, San Gregorio, San Giovanni La Punta, Santa Cadali Battiati, Tre Mestieri Etneo, Via Grande, Zafferana Etnea. Oltre a cimiteri, impianti sportivi e ville comunali. La raccomandazione fino alla mezzanotte per tutti è comunque quella di mantenere la massima prudenza ed evitare al minimo gli spostamenti. Allerta in queste ore, estesa anche alle città di Siracusa, Ragusa, Messina, Grigento, Caltanissetta, anche qui in molti comuni stop alle lezioni e avvisi di massima prudenza. Il tempo sta andando comunque a migliorare, anche se ancora le piogge, seppure ad intermittenza, continueranno a manifestarsi fino a che questa perturbazione, caratterizzata dal forte vento, non lascerà definitivamente l'isola. Un 25enne di scordia accusato di essere un ladro seriale in trasferta a Ragusa, che è autore di due furti a poche ore di distanza l'uno dall'altro, in un bar e in una ferramenta dove ha rubato diverse migliaia di euro, è stato arrestato dalla polizia della questura del capoluogo Ibleu. A permettere la sua identificazione al personale della squadra mobile che ha indagato la visione di questi filmati registrati dalle telecamere di sicurezza, ma anche un'impronta digitale lasciata sul registratore di cassa sottratto al bar rilevata dalla polizia scientifica. Nei confronti del 25enne, il GIP di Ragusa, su richiesta della locale procura, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto aggravato. Il provvedimento è stato eseguito dalla squadra mobile. È un latitante a Catania, è stato arrestato dalla polizia dopo che per strada si era messo a litigare con una donna, forse la sua ex compagna. In manette è finito Dario Cutuli, 31 anni, catanese. L'uomo deve espiare una pena di tre anni, un mese e 19 giorni per resistenza pubblico ufficiale, violenza e danneggiamento. Il dettore è anche indagato per lesioni e resistenza pubblico ufficiale e per false attestazioni sulla propria identità personale. Tutto è accaduto nella notte tra lunedì e martedì, quando i poliziotti delle volanti, a seguito di una segnalazione, sono intervenuti su via Fava, dove è stata segnalata la presenza di una coppia intenta a litigare animatamente. L'intervento della volante ha fatto sì che la lite non degenerasse, visti i precedenti di Cutuli. Parliamo adesso di Etna 2019, il meeting di Forza Italia organizzato dal coordinamento provinciale del partito che raccoglierà sabato e domenica prossimi a via grande, simpatizzanti ed esponenti. Vediamo. Nella prossima fine settimana, sabato 16 e domenica 17 novembre, Forza Italia sarà protagonista in occasione delle mitiche nazionali Astag Etna 19, al lavoro per l'Italia. L'evento è organizzato dal coordinamento provinciale azzurro Etneo ed è articolato in un denso programma di dibattiti e riflessioni, incentrati su politica e società, presenti i massimi dirigenti e rappresentanti nazionali del partito. Non a caso la denominazione scelta per il meeting richiama il vulcano Etna e saranno affrontate e dibattute varie problematiche di stretta attualità. Una straordinaria occasione di confronto, di dibattito, di proposta politica da chi ha una responsabilità di governo ma di chi vuole parlare ai cittadini. Ci saranno ben 70 interventi, rappresentanti politici nazionali, Tajani, Gasparri, Gelmini, Toma, il presidente della regione Molise, ma ci saranno i nostri rappresentanti, dal presidente Schifani, dall'onorevole Prestigiacomo, la senatrice Gianmanco, ci sarà il nostro coordinatore regionale, l'onorevole Gianfranco Micichè, che concluderà i lavori, ma assieme a loro ci saranno anche tanti rappresentanti del mondo delle attività produttive, i più grandi rappresentanti dell'innovazione, dall'ingegnere Simone Massaro al professore Biagio Pecorino, al dottore Mario Rendo, ci saranno anche Pierpaolo Drago, ma ci saranno i docenti universitari dell'Università di Catania, dal professore Musumeci, dal professore Torrisi, al professore Cascone, ci saranno anche il professore Busetta dello Svimez, ordinario a Palermo, ci saranno i rappresentanti degli enti locali, dal sindaco Corrado Bonfanti di Noto, al sindaco metropolitano di Messina, Cateno De Luca, dall'onorevole Bernadette Grasso, al nostro presidente del gruppo parlamentare, Tommaso Calderoni. Insomma, ci saranno tantissime persone, i giovani, i giovani avranno una parte importante. Il nostro segretario, commissario nazionale Marco Bestetti, sarà accompagnato da circa 30 giovani, da Antonio Vilardita, Antonio Mondemagno, da Simone Ingardona e tantissimi altri, Andrea Mineo, per dire che qua questo partito è un partito giovane, ma è un partito che vuole rilanciare una grande proposta politica. Tanti gli argomenti sul tappeto, tra questi si parlerà di associazionismo, di infrastrutture, di tariffe aeree. Si parlerà di associazionismo, di tariffe aeree, si parlerà appunto di come vogliamo infrastrutturare questa Sicilia, si parlerà di innovazione, di attività produttive, di agricoltura, ed ecco perché alla fine, la domenica, ci sarà la telefonata del presidente Berlusconi, che sarà la sintesi, il convendio di tutto per una proposta politica forte, di carattere nazionale, ma anche calibrandola alle ragioni e alle ragioni della Sicilia. Come Forza Italia Giovani saremo presenti alle ore 15 di sabato, quindi il momento clou della manifestazione. Dopo il pranzo sarà presente il coordinatore nazionale Marco Bestetti, il nuovo direttivo regionale che vedrà protagonista Andrea Mineo, consigliere comunale di Palermo, Lilli Di Nolfo e ci saranno tanti altri ragazzi dirigenti giovanili siciliani, di Forza Italia Giovani e non solo. Noi dalla parte nostra, in quanto giovani, siamo fortemente convinti che Forza Italia possa rappresentare l'alternativa futura e non sia un partito legato solo ed esclusivamente al passato, ma possa essere volano per chi oggi crede nella buona politica, per chi oggi non vuole uniformarsi alla politica del populismo, per chi oggi ha degli ideali moderati che solo ed esclusivamente in Forza Italia potranno essere rispecchiati adeguatamente. E adesso ci spostiamo nella frazione accese di Aciplatani, dove un residente di questa frazione terremotata e dimenticata denuncia il disinteresse da parte delle istituzioni locali e le sue condizioni di abbandono. Vediamo. Un esposto alla Procura della Repubblica di Catania è stato presentato da un residente di via Messina da Aciplatani, nel territorio di Acireale, arteria parzialmente chiusa al transito dal sisma del 26 dicembre scorso, per la presenza di alcuni edifici dichiarati pericolanti. Il signor Nuccio Pavone, ex impiegato dell'aeronautica, reside con la moglie in questo edificio, in parte destinato a casa vacanza, non compromesso del terremoto, eppure l'uomo lamenta di essere stato abbandonato dalle istituzioni locali che avevano assicurato una soluzione che avrebbe consentito, a malcapitato, l'accesso con la propria auto nel garage di casa e il passaggio di eventuali mezzi di soccorso in caso di necessità. Ad un anno dal sisma sono promesse nessun fatto concreto, stanco di subire l'indifferenza della classe dirigente a CES ha deciso di inviare un dettagliato esposto alla procura in cui evidenzia le difficoltà di residente recluso in una strada chiusa con queste barriere in cemento armato. La piccola attività di affittacamere per il momento è stata sospesa. Eppure, spiega il signor Pavone, basterebbe rimuovere uno dei jersey per consentire l'accesso in auto e l'eventuale passaggio dei mezzi di soccorso transennando il lato destro della carreggiata dove sono presenti le abitazioni sgomberate in quanto pericolanti, come promesso dall'amministrazione in carica e dai vertici della protezione civile locale. Ma nulla si è mosso sino ad oggi, nonostante i tanti solleciti e l'impegno di interventi risolutivi a tutela dell'incolumità di chi risiede in questo tratto di via Messina. Perché se succede un incendio o qualcosa, sia questa mia che quella che ci ha presso per esempio, oppure anche questa, perché in effetti siamo tre famiglie perché queste non ci sono, perché sono fuori a lavorare fuori ma se c'era già un'altra famiglia, perciò siamo in tre. Se succede qualcosa, un incendio, i vigili del fuoco prima di tutto devono pensare a togliere quelle bastioni di cemento e poi entrare. Perciò, vedi, se hanno pensato una cosa del genere hanno pensato a dover entrare un'ambulanza i vigili del fuoco, che può succedere qualcosa di questo genere. Cioè io già ho fatto una deluncia alla procura di Catani appunto per questo, perché se succede qualcosa cioè sono responsabile prima col sottoscritto e poi dopo sono responsabile il comune di Aceriale e la protezione civile, perché sono loro gli interessati che hanno fatto questo macello in questa strada. Tra l'altro lei ha fatto diverse segnalazioni. Sì, noi è dal 17 luglio, da quando hanno chiuso la strada che combatto col sindaco e finora, ma ci ha preso solo in giro. Perché il 17 luglio c'è stata la chiusura, il 23 settembre sono passate più di due mesi per fare questo progetto come si era stabilito che si doveva fare una L di chiusura che rimanevano le case praticamente agibili e quelle illegibili. Ecco, il 23 settembre del 17 luglio si è fatto questo progetto che si potevano fare tre piani con questo progetto per fare una L. Ecco, poi dopo di che è stato spedito al comandante dei vigili urbani, però ancora è stato spedito, appunto, protocollato il 23 settembre, ancora tuttora non si è visto niente. E adesso vi mostriamo delle immagini poco edificanti, se non altro per i protagonisti pizzicati ad Cicatena, dove il sindaco dichiara lotta agli incivili mentre abbandonavano sacchetti della spazzatura per strada. Il comune di Cicatena dichiara guerra agli incivili e lo fa mettendo in campo un sistema di telecamere trappola in grado di catturare gli sporcaccioni nel momento in cui abbandonano indiscriminatamente rifiuti su tutto il territorio comunale, alimentando discariche abusive. Un centinaio a quelle riprese negli ultimi 15 giorni, tra loro anche soggetti recidivi, segnalati alla Procura della Repubblica Etnea in quanto scoperti ad abbandonare rifiuti sul suolo pubblico e già raggiunti da sanzioni che variano da 50 a 600 euro. Uno zoccolo duro di sporcaccioni indifferenti al rispetto delle regole della civile convivenza, in alcuni casi delinquenti. Li bolla così l'assessore alla Municipale, Angelo Russo, stamani presente alle verifiche tecniche e delle immagini per estrapolare le identità di quanti sporcono attraverso il numero di targa e dei mezzi ripresi dalle telecamere collocate dagli agenti della Municipale nei luoghi dove è maggiore la presenza di rifiuti abbandonati, periferie e strade poco trafficate. Il Festival degli Sporcaccioni si apre con questo signore che lancia letteralmente quel che resta di un divano tra i cumuli dei rifiuti abbandonati da altri sporcaccioni in una sorta di festival dell'inciviltà in danno a quanti rispettano le regole, differenziano in maniera corretta e seguono le indicazioni della ditta nello smaltimento degli ingombranti. Non manca chi scarica ogni sorta di inerte da furgonati e camioncini e sempre nel medesimo luogo convinti di farla franca. Le telecamere hanno ripreso il tutto e gli ispettori della Municipale incaricati da giorni ridicono verbali da recapitare a questi campioni dell'abbandono dei rifiuti. Ma c'è anche chi ha affinato la propria tecnica. Il signore che vedete nelle immagini in passato è stato pizzicato e pesantemente sanzionato. Così per non lasciare traccia dopo aver abbandonato la busta con gli scarti domestici appicca il fuoco convinto di cancellare ogni traccia. Non c'è che dire, un genio. Quella degli incivili purtroppo è pratica difficile da debellare anche se l'amministrazione catenota mi pare che stia investendo molto per stroncare questo fenomeno. Circa 100 le sanzioni elevate e purtroppo ci sono anche i recidivi. Sì, siamo tra le altre cose anche soddisfatti del lavoro che stiamo facendo che nella disgrazia ci vede ancora più uniti e affietati nelle deleghe che insieme al collega russo stiamo lavorando affinché si possa scongiurare questo fenomeno e debellare una volta per sempre il fenomeno delle discariche abusive. Stiamo elevando tante sanzioni stiamo lavorando con l'assessorato all'ecologia assistito dal servizio della polizia locale affinché si possa si trasmetta il messaggio chiaro che se sporchi prima o poi viene beccato e stiamo beccando tanti sporcaccioni e tanti incivili che dalle immagini poi giungono qui al comando dei vigili urbani dove viene emessa giusta sanzione. Prima si è passati alla sensibilizzazione attraverso dei volantini attraverso degli incontri con gli studenti nelle scuole e adesso si è passato alla repressione la repressione si fa con delle telecamere la repressione si fa con la collaborazione dei cittadini civili e onesti che ci stanno dando l'opportunità di mettere le telecamere in posti non usuali così da beccare quando più ingivili ma chiamiamole anche con il loro nome porci con tutto il rispetto per esempio in particolare ma in certi casi anche delinquenti vedrete dalle immagini della gente che in maniera metodica si riempie dei camion e scarica in strade che pensava fossero diciamo non disabitate ma senza controllo invece ci sono queste telecamere messe a random nel paese sono poche ne compreremo ancora di più perché questo è uno dei punti programmatici dell'amministrazione Oliveri e lo porteremo avanti costi quel che coste e adesso ci spostiamo al riposto dove si è tornato a parlare di un'importante opera ancora tutt'oggi non ultimata ovvero della strada al riposto schisò se ne è parlato con il senatore dei 5 stelle Cristiano Anastasi che porterà le stanze dei comuni della riviera ionica direttamente al vice ministro per le infrastrutture cancelleri vediamo del completamento dell'asse viario riposto schisò si parla dalla 1970 la realizzazione di un vecchio progetto con le nuove idee in cantiere sono stati questi i temi al centro di un incontro svoltosi alla presenza oltre che del sindaco Enzo Caragliano dei primi cittadini dei comuni di Mascali Luigi Messina di Fiumefreddo Sebastiano Lucifora e di Calatabiano Giuseppe Entelisano con loro il senatore dei 5 stelle Cristiano Anastasi la riunione nasce dalla necessità di valutare possibili soluzioni in merito a questa arteria di fatto finita nel dimenticatoio un progetto che ha come obiettivo quello di trasformare in realtà un lungomare unico che si snoda proprio tra i territori di riposto Mascali Fiumefreddo Calatabiano fino a raggiungere il comune di Giardini Naxos quanto c'è di fattibile quanto c'è di cantierabile si sapranno appena questi progetti che riguardano parte della reggia trazzera di Calatabiano sul torrente minisale sino ad arrivare a Giardini Naxos saranno posti all'attenzione del Vice Ministro alle infrastrutture cancelleri progetti che riguardano la strada di collegamento fra i paesi diciamo della rive raionica e Giardini Naxos è un vecchio tema un tema vecchissimo però non se ne è mai parlato in maniera approfondita quando me ne hanno parlato i sindaci ho semplicemente detto va bene ma questa strada come deve essere una strada carrabile o una strada per favorire lo sviluppo sono due temi diversi strada carrabile significa una strada che deve semplicemente collegare da A a B una strada invece che deve creare turismo e sviluppo non necessariamente deve essere una strada carrabile può essere anche una strada destinata a pedoni o comunque una strada diciamo diversa da quella che si immagina comunemente il secondo tema invece è il porto di riposto anche qui tema fondamentale perché lo sviluppo della zona deve passare attraverso un connubio fra l'attività portuale in particolare l'attività non di portistica ma quella delle navi da crociera e quindi abbiamo bisogno di un'espansione questo servirà come volano di sviluppo per tutto il territorio perché potrebbe essere un tema che riguarda giarre come zona commerciale potrebbe essere mascali come zona di svago diciamo per questi turisti che dovrebbero arrivare è un tema abbastanza ampio coinvolgere tutta la zona i finanziamenti regionali da queste parti hanno dato e stanno dando degli ottimi risultati che speranze ci sono invece a carattere nazionale a carattere nazionale valgono i progetti quindi se noi riusciamo a portare un buon progetto con buone regolamentazioni abbiamo buone probabilità o da parte del governo nazionale o da parte di fondi europei ma dobbiamo avere un buon progetto sulla riposto schisso ad esempio che progetto c'è? adesso proprio questo proprio questo è l'oggetto dell'incontro vediamo se questo diciamo vecchio progetto perché a me se ne parla da 30 anni può avere una valenza veramente di sviluppo o deve essere solo una striscia d'asfalto ma guardi a memoria io ero piccolo me lo ricordo che già se ne parlava quindi adesso lo vedremo sicuramente andrà aggiornato perché il modello turistico che c'era 30-40 anni fa non è più quello di oggi oggi noi dobbiamo portare i turisti più vicini dobbiamo fargli vivere un momento emozionale e dobbiamo portarli qui non devono semplicemente transitare il cosiddetto turismo di passaggio il turismo di bottega non è quello che più porta a valore aggiunto e adesso ci spostiamo ad Acirale dove si è presentato un corso di formazione soprattutto di sensibilizzazione per gli operatori sanitari al fine di incentivare la donazione degli organi salvo cuturi il dono della vita è il percorso intrapreso da medici e personale infermieristico coinvolti ognuno con il proprio ruolo nel promuovere la cultura della donazione degli organi come atto di solidarietà e responsabilità civile nella sala conferenza dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acirale il Dipartimento delle Emergenze della Svettene ha avviato una massiccia campagna di sensibilizzazione alla donazione degli organi formando tutti gli operatori sanitari dei nosocomi coinvolti ed estendendo per quanto possibile coinvolgimento dei medici di famiglia che possono dare un contributo significativo alla campagna voluta dai vertici dell'Aspe di Catania ognuno può fare la propria parte non solo personale sanitario ma anche enti ed associazioni possono contribuire a diffondere la cultura della donazione degli organi quello di stamane è il primo appuntamento dei due programmati dagli organizzatori sul tema il prossimo sempre a Acirale si svolgerà il 12 dicembre Pietro Cedamidaro poteratore e organizzatore del convegno dono della vita significa che in pratica vogliamo incrementare la volontà di donare e quindi la cultura della donazione questo è quello che l'azienda si propone di fare cioè con questo corso vogliamo innanzitutto è un corso attualmente riservato agli operatori sanitari quindi tutti i nostri operatori medici infermieri biologi chimici tutti quelli che lavorano nella nostra azienda sanitari che in pratica possono avere contatto con pazienti parenti e significa che in pratica debbono essere quelli che danno lo spunto alla popolazione all'utenza e quindi invogliare questa utenza non dico a fare loro la donazione ma ad avere la cultura della donazione perché donare che cosa significa donare significa dare vita il ruolo degli operatori nella donazione centrale specie nell'attivazione delle delicate procedure di accompagnamento dei familiari del potenziale donatore percorso che deve seguire intanto noi abbiamo dei punti all'interno della nostra istituzione a livello distrettuale e a livello ospedaliero sono i punti URP dove oppure i punti dove si fa l'anagrafe degli assistiti sì c'è un modulo che è un modulo nazionale un modulo che è presente in tutta la nazione a tutti i livelli che si deve compilare si deve dire dare i propri dati anagrafici si deve dire sì dono no non dono e quando dono sto dando il sì l'autorizzazione per organi e tessuti la cornea è un tessuto non è un organo e non posso dire io do il sì per un organo e do il no per la cornea ad esempio ok o do sì o do il no e adesso parliamo di un appalto tanto atteso a mascheri in particolare nella frazione di Carrabba i lavori fanno riferimento a via Amerigo Vespucci vediamo il servizio di Francesco La Rosa Importanti novità sul piano viario a Mascali come annunciato dallo stesso primo cittadino Luigi Messina appaltati i lavori per la riqualificazione di via Amerigo Vespucci una delle maggiori opere incompiute del territorio si tratta di una strada importante che attraversa la frazione di Carrabba oltre a questo altre arterie viarie saranno a breve sistemate in questi giorni abbiamo appaltato la via Vespucci che è una delle strade importante del nostro territorio che è da decenni che si attende di realizzarla pertanto probabilmente nei primi giorni di dicembre noi condiamo di fare iniziare i lavori oltre a questo è stata realizzata a fianco a via Vespucci un'altra strada che inaugureremo al più presto alla pubblica fruizione tutte queste attività sono state svolte attraverso l'ausilio della segreteria e soprattutto il lavoro svolto dall'ufficio tecnico gestito con a capo l'ingegnere Leotta Massimiliano il tutto è stato seguito anche dal geometra Torrisi dal geometra Caltabiano dall'architetto Di Bella che in questi mesi hanno lavorato con attenzione a questo progetto tutto questo porterà beneficio in un'area dove abitano decine di famiglie e che verrà completata con le banchine le luci non meno l'asfalto tutto quello che serve affinché una strada possa essere decentemente percorribile domenica scorsa al Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania si è svolto il concerto per raccogliere fondi a sostegno dell'AER che la Sicilia si conferma tra le regioni italiane più generose nonostante il reddito pro capite sia tra i più bassi vediamo 920 biglietti venduti dalle poltrone in platea e fino all'ultima fila del loggione Teatro Massimo Bellini di Catania gremito di pubblico domenica sera per il concerto Catania per AIRC obiettivo della serata la raccolta di fondi per la ricerca scientifica sul cancro di scena i musicisti jazz Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura con lo spettacolo in maggiore tratto da un loro cd un viaggio poetico e quasi confidenziale nella geografia sentimentale musicale dei due artisti fra le note della tromba di Fresu ed il bandoneon di Di Bonaventura ha preso forma un delicatissimo acquerello sonoro cultura e linguaggi di ieri e di oggi ai quali il jazz e due tra i suoi migliori interpreti aggiungono ogni volta nuovi colori e sfumature espressive organizzato dalla delegazione AIRC di Catania con la collaborazione dell'associazione musicale Etnea ed il contributo di Fideuram il concerto Catania per AIRC è stato introdotto dall'attrice Emanuela Ventura generose le donazioni della Sicilia anche quest'anno la regione per una manifestazione inserita nel calendario dei giorni della ricerca 2019 e svolta con l'alto patronato della presidenza della Repubblica e il professor Riccardo Vignieri Presidente Fondazione AIRC Sicilia ha sottolineato la consueta grande partecipazione dei siciliani alla raccolta fondi per la ricerca scientifica nonostante il reddito pro capite sia notevolmente più basso di altre regioni la Sicilia figura ai primi posti per volume di donazioni tanto che nel 2018 il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale dell'AERC ha finanziato nell'isola 13 progetti di ricerca e due borse di studio per un totale di un milione e mezzo di euro il concerto al Bellini di Fresu e di Bonaventura è stato preceduto dall'esibizione della band Giacaranda l'orchestra giovanile dell'Etna che impegnata in progetti sociali con i detenuti del carcere minorile di Acireale propone brani originali di musica popolare contemporanea in chiusura un brano di Fresu dalla Norma di Bellini al quale il trombettista sardo ha dedicato una originale versione jazz e un cd appena pubblicato ricorre oggi il quattordicesimo anniversario della morte di Sebastiano Tosto editore di Rei TV prematuramente scomparso a soli 37 anni venire il 2005 quando fu strappato alla vita il suo ricordo immutato in questi anni tra i familiari colleghi e gli amici che lo hanno affiancato anche in questa esperienza televisiva che tanto amava tanto da far diventare una passione un vero e proprio lavoro a cui dedicava gran parte del suo tempo una messa in suffraggio sarà celebrata oggi pomeriggio alle 18 nel santuario della Madonna di Loreto ad Acireale eccoci studio vi lasciamo adesso le previsioni meteorologiche non ci sono infatti notizie o aggiornamenti dell'ultimo ore dunque si conclude qui la prima edizione del nostro telegiornale vi ricordiamo il sito re tv.it il nostro canale youtube e la pagina facebook a voi tutti buon proseguimento di pomeriggio torna il bel tempo in Sicilia lo vedete nelle previsioni meteorologiche per la giornata di domani mercoledì 13 novembre il cielo tornerà ad essere sereno soprattutto sul versante orientale dove pioggia e forte raffiche di vento hanno caratterizzato le condizioni climatiche i venti saranno sostenuti i mari leggermente mossi uno sguardo adesso alle temperature che mantengono valori più bassi rispetto a quelli delle scorse settimane a Catania minima e massima rispettivamente di 14 e 20 gradi centigradi una situazione quasi speculare su tutta l'isola la temperatura più alta sarà rilevata oltre che nel capologo etneo anche nella messinese mentre la più bassa come di consueto nell'entroterra adenna con 5 gradi centigradi di Grazie a tutti.